Ciao tifoso del Napoli. Benvenuto nel nostro canale, nel video di oggi parleremo del futuro di Kim Min-Jae e delle opzioni del Napoli se il difensore decidesse di andarsene. Ma prima, iscriviti ora e attiva le notifiche per non perdere nessuno dei nostri contenuti esclusivi sul Napoli. Secondo Ciro Venerato, specialista di mercato, Liverpool, Manchester United e PSG sono interessati a Kim e pronti a pagare la clausola rescissoria che oscilla tra i 50 e i 70 milioni di euro. Inoltre, questi club sono disposti a offrire al difensore 5 milioni netti a stagione. Il Napoli è disposto a offrire a Kim 2,5 milioni più 500 mila euro di semplici bonus e far cadere la clausola rescissoria. Inoltre, il club spera che il desiderio del giocatore di rimanere in squadra e in città possa influenzare la sua decisione. Se Kim decide di lasciare il Napoli, il club ha già valutato alcune opzioni sul mercato. Giallo De Lille era un giocatore che interessava il Napoli, ma si è infortunato. Ndicca dell'Eintracht è stato contattato ma il suo prezzo è superiore a quello che il Napoli può permettersi. Demiral e Bekao sono considerate opzioni discrete, ma non eccellenti. Secondo me il futuro di Kim Minjai al Napoli è ancora incerto. Come abbiamo visto, sono molte le squadre interessate a ingaggiarlo, il legame che il giocatore ha con il club potrebbe essere la chiave per scongiurare la concorrenza. Ora, è importante sentire la tua opinione, cosa credi si debba fare in questa situazione. Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. Grazie per l'ascolto e fino alla prossima volta.